Dal titolo Verde Speranza, Ivan Bolognese al sax. Di solito a questo punto gli fanno un applauso, di solito. Di solito a questo punto gli fanno un applauso. Di solito a questo punto gli fanno un applauso, di solito. Di solito a questo punto gli fanno un applauso, di solito. Grazie. 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 Verde Speranza, Ivan Bolognese al suo sax.